Scuola chiusa per ordinanza della Zindaco, questo quanto si legge all'ingresso della materna Brogi di Castiglionna a Fiorentino, dove una maestra è risultata positiva alla Covid-19 e così è scattata la chiusura per la sanificazione, mentre un'intera classe è finita in quarantena. Purtroppo un caso di un insegnante che una volta risultata positiva al Covid ci ha imposto di prendere dei provvedimenti sulla scuola. L'isolamento, la quarantena per la classe dell'insegnante, però abbiamo preso anche l'occasione per mettere in atto la necessaria sanificazione che sarà necessaria farla tra oggi e domani, quindi forse anticipo che potrebbero essere anche due giorni per l'ordinanza di chiusura. Non eravamo abituati al rientro del virus all'interno del mondo scolastico. È il caso di mantenere la barra dritta, come si dice, ma anche la necessaria lucidità. Il primo cittadino ha poi tracciato anche un quadro completo della situazione sul territorio castiglionese. 14 casi attualmente in isolamento a Castiglion-Fiorentino, più 3 persone ricoverate in ospedale, ci riportano a una media di inizio settembre 2020, quindi non siamo in un quadro allarmistico. È chiaro che tutte le notizie che affiorano ci fanno un po' preoccupare, ma per questo vogliamo comunque rassicurare che c'è la massima attenzione da parte di tutti. Qualche giorno fa, infine, sempre nell'Aretino, a Prato Vecchio Stia, erano finiti in quarantena più di 100 bambini. In questo caso, a seguito della positività al Covid-19 riscontrata in un autista dello scuolabus. Grazie.